Ildis stava bene, ha detto che aveva bisogno di rifiatare, non ha detto che stava male. L'unico problema è che tu non puoi giocare con l'Empoli, con Milic e Vlaovic. A me sembra una roba incredibile. Pare di no, il campo ha detto no. No, il campo non ha detto no, ha fatto un errore, ha commesso un errore, non è che il campo ha detto no. Hai ragione, bravo, hai ragione, è colpa di Allegri, hai ragione. Io ne condivido due, sottovalutazione della partita. Bravo, hai ragione. Sottovalutazione della partita. Ma che sottovalutazione, Milic con Milic? Sottovaluti con Milic. Danilo è diffidato da cinque partite, ha fatto un fallo in cinque partite. Perché deve saltare con l'Empoli e fa giocare l'Alexandro che non è più... Ma io mi chiedo, scusa un attimo. Mi fai parlare? Io mi chiedo, no, stai parlando a un quarto d'ora. Mi chiedo, ma perché John Elkan non chiama te? Io ho telefonato e dico, ma perché non chiami te il Trevisano invece di Allegri? È una cosa che non ti piace. Guarda che è molto più... Grazie.